fiume salantrella che sfocia nel cavone che poi ahimè sfocia a scanzano ionico c'è salantra come potete ben notare danno ancora continua qua ancora esce acqua rossa quanto danno abbiamo fatto alle future generazioni mi domando quell'acqua sarà veramente naturale come vogliono a tutti i costi farci credere io non ci credo ma soprattutto mi deludono i miei concittadini che addirittura tacciono e addirittura qualcuno mi ha dato del pazzo la gente non interessa nulla di questa situazione al di là di qualche pubblico ufficiale che si è cimentato devo dire grazie agli ambientalisti e di potenza e del circondario tutti ringrazio tutti che mi stanno veramente vicino ma oggi una risposta di questo che sta succedendo non ce l'ho ciao da giuseppe che vivo a roma purtroppo